Endless love, super anticipazioni settimanali che ti lasceranno senza parole. Nella puntata di lunedì, Ihan si scontra con Galip a causa del debole che nutre per Leila. Zeynep e Emir continuano a vedersi di nascosto, ma le dinamiche tra loro sono sempre le stesse. Lui è indifferente e lei vorrebbe più attenzione, finendo per il sentirsi sempre frustrata. Per cercare di farlo ingelosire, Zeynep si avvicina ad Akan. Nel frattempo, in casa soidere, la convivenza tra scuora e nuora è impossibile. Kemal è riuscito ad ottenere le registrazioni delle recenti telefonate di Ozan dal carcere e anche Ihan vuole ascoltarle, dunque inizia ad uscire di notte senza farsi vedere per incontrare il soidere. La Sezin scopre così che, non avendo risposto alle ultime chiamate di suo fratello, non era riuscita ad ascoltare i messaggi vocali che Ozan le aveva inviato poiché erano stati eliminati. Nel frattempo, Asu sceglie di incontrare il padre Galip al cimitero dove è sepolto lo zio Hakki. Galip rivela ad Asu di voler spogliare Emir di ogni bene, temendo che la sua ossessione per Nihan lo spinga ad accettare qualsiasi desiderio della donna, anche economico. Così, Galip offre alla figlia le quote dell'azienda detenute da Emir e Asu accetta immediatamente. Poco dopo, la donna dà appuntamento a Emir per rivelargli tutte le macchinazioni del padre e, sebbene Emir appaia sconvolto, Asu lo tranquillizza. Lei ha accettato questo dono dal padre, ma non che lui abbia venduto senza battere ciglio uno dei suoi figli. Prima di proseguire, se ti interessa ricevere le anticipazioni di Endless Love in anteprima, lascia un piccolo commento con scritto «sì». Riprendiamo. Kemal ha ordito un piano per allontanare sua sorella da Emir. Dopo aver letto i messaggi sul cellulare che il fratello ha lasciato a casa, sperando che lei lo trovasse, indirizzati a lui da Zehir che ha salvato in rubrica con il nome Nihan, Zeynep chiama immediatamente Emir per avvisarlo che sua moglie si trova a casa del fratello. Furioso, Emir si aggira per casa e cerca Nihan non trovandola, dal momento che lei è a casa dell'ex amante. Zehir, nel frattempo, è appostato fuori casa e, quando vede Emir uscire in fretta e furia, chiama immediatamente il soidere per aggiornarlo, così che lui possa far uscire Nihan da casa sua e accogliere un furioso Emir, che rimane con un pugno di mosche in mano. Kemal rivela a Emir il tranello in cui è caduta Zeynep, confessandogli di aver organizzato tutto questo per mettere alla prova la lealtà della sorella. Così Emir, furioso come mai prima, telefona a Zeynep e le dice di non volerla vedere mai più. Preoccupato per le minacce sempre più esplicite di Emir alla sua famiglia, il soidere chiede a Zehir di mettere sotto sorveglianza tutti i suoi cari. Dopo aver scoperto che fu l'avvocato di Nevzat a comunicare la morte di Ozan a Ondere e Zeynep, Nihan va a casa della soidere per ulteriori chiarimenti sulla morte del fratello. Turbata da quell'interrogatorio inaspettato, Zeynep si mette subito sulla difesa. Dopo aver mandato via Nihan, che torna a casa e trova Fehime pronta a chiederle se ha intenzione di divorziare, Zeynep chiama Emir e gli racconta della visita appena ricevuta. Così, Emir decide di tendere una trappola alla moglie e a Kemal. Nel corso della prossima riunione, farà in modo di lasciarli soli e tenerli d'occhio da lontano, con una telecamera nascosta. Se vuoi il continuo della storia, scrivi sì nei commenti. Grazie a tutti.